Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere questo errore riguardo a Counter Strike 2 ovviamente questo errore usciva sempre su CSGO, quindi Counter Strike Global Offensive e uscirà sicuramente anche su Counter Strike 2 molti hanno riscontrato questo problema, quindi per risolvere questo problema andiamo un attimo su Steam nella libreria di Counter Strike 2 iniziando prima a cliccare sul nostro account e fare una disconnessione dell'account, quindi disconnetti dall'account e poi ok, una volta fatto l'accesso andiamo nella libreria del nostro gioco, quindi Counter Strike 2 andiamo su Impostazioni, Proprietà, File installati, sfoglia i file locali del gioco andiamo su Game, Bin, Win64 e questo è il nostro CS2, ovviamente su CS2 vanno cancellati un bel po' di file, quindi iniziando prima da questa VConsole 2 questi tre file DLL che mi disegna come documento di testo e queste tre cartelle una volta fatto chiudiamo qua facciamo sempre Proprietà File installati e facciamo Verifica integrità dei file del gioco ok, 25 file non sono stati completati e verranno riscaricati quindi ovviamente ha fatto un download dei file completati eccoli qua, 33 MB mancanti e li ha scaricati ora non ci resta che premere sul gioco a vedere cosa ci dà non ci resta che ok io adesso provo ad avviare una partita mi faccio su gioca vado su leggera metto questa qua disinesco delta sperando di non incontrare quell'errore facciamo via ovviamente la partita me la sta avviando sta andando la tua partita è pronta ok è andato se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lasciate like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao